La pace dei santi sia con voi. Il 9 aprile la Chiesa celebra la memoria di San Liborio, vescovo di Le Mans. Secondo alcune fonti antiche, Liborio sarebbe stato il quarto vescovo di Le Mans in Francia, ma non è possibile tracciarne una cronologia precisa. Il suo pontificato durò 49 anni, intorno al 380. Secondo alcuni documenti, un suo successore, il vescovo Aldrico, consacrando la cattedrale nell'835, volle che una degli altari fosse dedicato ai santi di Le Mans, fra cui appunto Liborio. Nell'836 il vescovo di Paterbon inviò una delegazione a Le Mans per avere delle reliquie di San Liborio. In occasione della traslazione avvennero dei miracoli. San Liborio divenne così santo patrono anche di Paterbono. L'iconografia lo rappresenta come un vescovo anziano, caratterizzato dalla presenza di piccole pietre. È infatti protettore dei malati della calcolosi renale. Viene raffigurato anche insieme a un pavone o a qualche penna di pavone, in ricordo dell'uccello che accompagnò la traslazione delle sue sacre reliquie. Il culto è particolarmente diffuso in Francia, Germania, Spagna ed Italia. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di San Liborio ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.